Quinta edizione di Pitelli in Cantina, una manifestazione molto attesa nell'estate di Pitelli, ma di tutta la Spezia, una manifestazione particolare. Che cosa ci aspetteremo per questi due giorni, venerdì e sabato? Sì, venerdì e sabato, in partenza dalle 18, finire la luna. È la quinta edizione, come hai detto a te prima, e siamo contentissimi di aver raggiunto questo traguardo. È, come sempre, eco-festa certificata alla regione Liguria e sarà la due giorni di Joa, della statua che sta su un tetto di un'abitazione di Pitelli, che noi celebriamo nei suoi bagordi di questi due giorni, venerdì e sabato. Joa, ma c'è anche un altro protagonista, lo vediamo qua, è il signor Strina. Strina che sarà protagonista anche di alcune iniziative che si aggiungono proprio a Pite in Cantina. Esatto, rievochiamo gli anni 50, rievochiamo gli anni dell'unione, di essere tutti insieme, di essere una grande famiglia. E Strina, con Spezzino Vero, a quest'anno ha sposato, come anche gli altri anni, aveva sposato la causa di Pitelli. Soprattutto quest'anno si è tabbinato anche a Teleton. Quindi ha messo a disposizione queste bellissime magliette degli altri gadget che dicono appunto Pite in Cantina, con Chite, il mostro di Pitei, e appunto è Strina che parla e cerca di fare una collaborazione col mostro di Pitelli per fare l'indice della solidarietà. Quest'anno questo ricavato andrà a Teleton. Inoltre, poiché in queste ultime ore è successa una grave calamità naturale, che è il terremoto che ha colpito il centro Italia, abbiamo deciso, come proloco di Pitelli e come manifestazione, proprio come Pite in Cantina, di mettere in ogni cantina che partecipa a questo evento un salvadanaio per portare un ricavato anche di questa parte della solidarietà e della volontarietà delle persone di portare un aiuto alla proloco di Amatrice. Quindi solidarietà è importante e è importante anche la parte gastronomica e delle cantine di questo borgo. Sono 13, se non sbaglio, le cantine con tantissimi prodotti e ricette tradizionali. Esatto, come ha detto Mara, è un paese molto solidale, però noi viviamo la festa, i due giorni dell'evento, ma anche l'attesa. Per noi giovani, soprattutto, che quest'anno è la prima volta che apriremo la nostra cantina per dare il contributo al paese, ovviamente, è importante l'attesa per la sfera, l'ambiente che si viene a creare tutti insieme costruendo questa festa. Ma che cosa troveremo poi, di fatto, anche in giro per le strade di Pitelli? Sì, quest'anno, essendo la quinta edizione, abbiamo pensato anche di costruire un plastico, diciamo, che verrà esposto, appunto, di Pitelli. Inoltre ci saranno, come al solito, i vari concerti in giro per il paese e poi, soprattutto, ci sarà anche la mostra delle vespe d'epoca, diciamo. E niente, poi, andando in giro per il paese, ovviamente, si incontreranno personaggi come Joa, che fanno sempre sorridere, diciamo. E oltre a questo ci sarà anche il caldo benvenuto di ogni cantiniero di Pitelli. E poi, andando in giro per il paese,